Eccoci al nostro appuntamento quindicinale con la quarta pillola della rubrica drammaticamente grammatica della scuola del popolo di Oristano. Oggi parliamo dei pronomi personali e anche se non è questa una parte della grammatica italiana né agevole né semplice né tantomeno sintetica cercherò di trattare in linea di massima solo quello che ci può far venire dei dubbi suscitati da letture sui social o sui giornali o nell'udire un commentatore televisivo. Fermo restando che mentre verba volant e quindi il linguaggio soprattutto quello familiare ci permette di errare ma anche successivamente di correggerti scritta manent pertanto dobbiamo porre un po' più di attenzione se scriviamo e soprattutto dovremmo imparare ad ignorare quello che vediamo scritto in maniera sciatta. Premesso questo diciamo che i pronomi personali sono quei pronomi che rappresentano la persona che parla la persona che ascolta oppure la persona l'animale o la cosa di cui si parla senza specificarne o ripeterne il nome come detto nella pillola precedente. Entriamo ora nello specifico i pronomi personali che possono essere sia soggetto che complemento li conosciamo tutti ce li hanno insegnati con la coniugazione del verbo alle scuole elementari la persona o persone che parla io noi la persona persone a cui si parla tu voi io tu noi e voi hanno un'unica forma sia per il maschile che per il femminile lui lei egli ella sono forme maschili e femminili indicano la persona di cui si parla esso essa ciò indicano la persona o la cosa di cui si parla e hanno forme sia maschili che femminili il plurale loro esse essi qualche notarella a margine il pronome soggetto è tu il pronome complemento è te sempre più spesso viene utilizzato il te come soggetto al posto di te ed è assolutamente non corretto. Il noi è anche utilizzato come pronome detto di maestà se scritto maiuscolo e maestà perché in passato erano i regnanti a indicarsi con il noi questa forma era detta per l'appunto plurale maiestatis oggi è il pontefice talvolta ad utilizzarla invece se scritto minuscolo è segno di umiltà qualora il parlante voglia associare in ciò che dice o fa altri ad esempio io dico che in questi anni stiamo assistendo ad un decadimento della cultura nel nostro paese il voi fino a non molto tempo fa era utilizzato come pronome di rispetto si usava anche per rivolgersi ai genitori e ancora oggi è utilizzato special sud ma non mancano zone del centro italia in cui ci si rivolge ad una persona di rispetto un medico un farmacista un professore ma anche un anziano con il voi. Diciamo che il tu ormai è il pronome prevalente ma questo perché sono venute a cadere molte barriere sociali oltre che culturali rispetto per gli anziani perché più grande per chi è proposto ad un servizio dall'impiegato di sportello al cameriere ai docenti magari un'altra volta lo confronteremo con il tu degli antichi romani. Lui e lei che sono pronomi di origine spagnola di terza persona e sono usati per riferirsi a qualcuno o qualcuna ma anche sono utilizzati per quello che riguarda il lei e ella indifferentemente per rivolgersi in quanto pronomi di cortesia sia un uomo che a una donna. Ella era utilizzato prevalentemente nello scritto quando ci si rivolgeva ad una persona in genere uomo di qualche peso politico o culturale. È in disuso ma è poiché il parlato riflette il sociale anche la caduta dell'uso dei pronomi di cortesia riflette la caduta di alcune regole di comportamento nonché di alcune forme base dell'educazione. Parliamo ora dei pronomi personali soggetto e complemento. Mentre io e tu egli e ella si usano solo in funzione di soggetto tutti gli altri pronomi possono essere sia soggetto che complemento oggetto o altro complemento indiretto. Ma per indicare i pronomi complemento di prima e seconda persona singolare al plurale esistono le forme me, mi, te, ti, ci e vi. Me e te sono usati per qualsiasi complemento vengo da te dicono a me mi e ti è un complemento oggetto e di termine mi piace ti dico ci e vi complemento oggetto e termine vi vedo ci vediamo. Invece per i pronomi personali di terza persona la questione è un pochino più complicata egli ed ella possono essere solo soggetto ma esso essa il loro plurale lui e lei possono essere usati anche in funzione di complemento così come sono complementi lo e la possono essere solo complemento oggetto loro ha qualsiasi funzione logica è una forma invariabile per il maschile e femminile e solo per le persone li e le sono solo complemento oggetto ma anche per quello che riguarda il solo le complemento di termine insieme agli attenzione alla forma gli in italiano per esprimere il complemento di termine ovvero dire a chi o a che cosa un'azione fa riferimento dirò per esempio Marco da una mela a Sara se invece utilizzo il pronome dirò Marco da le da una mela non Marco gli da una mela oggi invece è sempre più comune utilizzare indestintamente la forma pronominale gli anche se molto diffuso però questo modo di esprimersi non è assolutamente corretto delle forme atone inclitiche o proclitiche del pronome speciale si e della forma ne parleremo la prossima volta per ora tanti auguri per una serena festività